Siamo qui con Riccardo De Bellis, vincitore dell'anno scorso della 900 GT Race e adesso ancora prima in classifica insieme ad Andrea Sapino, come procede questo campionato? Siamo al giro di Boa, le prime due gare decisamente meglio, questa per me era la meno indicata perché comincio ad avere un po' di problemi sull'orario dell'utilizzo del motore, quindi è una gara che la soffrirò sicuramente sia per il caldo sia per, ovviamente Monza è dedicata esclusivamente alle prestazioni del motore, la guida passa in secondo piano quindi giocherò in difesa sicuramente E pista preferita? Imola, quella forse, Imola col bagnato è quella dove mi diverto veramente Che è la più tecnica, quindi tu preferisci il tecnico rispetto magari al veloce? Diciamo che nel guidato mi difendo di più provenendo dai rally, quindi è una pista dove mi trovo a mio agio anche se è la prima esperienza che ho avuto su tre giri, tre uscite di pista, quindi è un amore e odio Oggi è amore ma inizialmente ho avuto un po' di problemi Grazie mille Grazie mille